Buongiorno, Doriana Inbimbo, vogliamo chiarire la vicenda giusto per far capire ai cittadini come sta la situazione. È solo una domanda, possiamo avere una risposta? Solo una risposta, proprio per una questione di chiarezza verso tutti, perché noi crediamo nella sua buona fede e vorremmo avere delle risposte. Tutto qui, né più e né meno. È possibile? Solo questo, è possibile? Una semplice risposta. Non vuole rispondere? Non vuole rispondere? Va bene.